La prima parola che vorrei consegnarti, la prima parola che vorrei regalarvi in questo giorno per voi speciale è proprio il verbo rimanere, perché l'amore rimane, l'amore non fugge mai, che possiate sempre sperimentare questa certezza, che questa mattina Dio sulla vostra famiglia ci mette la firma e Lui non scapperà mai, Lui resterà tra voi, in voi e lascerà il suo sigillo per sempre. E il vostro dono è quello di rimanere l'una accanto all'altro per tutta la vita. E che devi fare oggi per Sonia? Devo portare le redi. Io, Alfredo, accolgo te, Sonia, come mia sposa. Io, Sonia, accolgo te, Alfredo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Alfredo, ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fedeltà nel nome del Padre, del Figlio e dello scritto Santo. Dolce bimbo della nonna Adesso Sonia ed Alfredo sono sposi in Cristo, sono una nuova famiglia nella Chiesa e nella società e noi vogliamo accogliere questi sposi con un bell'applauso. Mi farei aspettare tanto. Mi farei aspettare tanto. Mi farei aspettare tanto. Grazie a tutti.